Faceva il bullo, così gli ho tirato una martellata, risponde con queste parole durante l'interrogatorio il giovane sirilanchese che mercoledì mattina scorso ha aggredito un suo compagno di scuola all'affermata dell'autobus. A giustificare l'atto violento quindi il desiderio di vendetta sul sedicenne di origine kosovare, che stando alla nota ufficiale della questura avrebbe preso in giro ripetutamente il suo aggressore. Mi insultava da mesi, ammesso, ma nessun professore sembra aver notato tensione tra i due studenti dell'istituto professionale Giorgi di Veronetta, anzi l'aggressore, stando alle parole dei docenti, a scuola si impegnava e sembrava ben integrato tra i suoi compagni. Non si ancora conferma però della veridicità del racconto, a pensarla diversamente infatti i compagni di classe della vittima che si sono rivolti alla psicologa per il disagio scolastico Giuliana Guadagnini, dicendo che quest'ultimo non avrebbe mai avuto contatti con il sirlanchese. Unica certezza è che entrambi gli studenti, vittima e aggressore, abbiano bisogno di supporto nella gestione dei conflitti e nell'abilità di ascolto e confronto con l'altro.